La televisione ha il vantaggio, come tutti i contenuti televisivi, anche quando non sono propriamente in televisione, di avere una pluralità di sapori, c'è l'intrattenimento, c'è il dramma, c'è l'approfondimento culturale, politico, sociale. Questa è una storia diversa, può sembrare triste nei temi trattati, ma secondo me restituisce sempre una vitalità maggiore di quella che pare portare via. Ho già visto qualcosa, ma rivederlo è davvero commovente, toccante e struggentemente meraviglioso. L'arricchimento per me è stato proprio umano, personale, di gratitudine sconfinata di far parte di un progetto così bello, ambizioso, con così tante professionalità in campo che la mia davvero è proprio l'ultima, la più piccola.